Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti, anzi bentornati a Zambè. Bentornati a Zambè in presenza dopo lo scorso anno che ci ha costretto a fare questa manifestazione solo in streaming. In questo bellissimo luogo del nostro Ateneo con la Palazzina della Viola alle nostre spalle la rassegna di quest'anno ha un programma molto ricco e un titolo che trovo estremamente affascinante e allumni la nostra storia. In qualche modo il punto d'arrivo o forse una tappa di almeno percorsi che abbiamo avviato subito dopo la mia elezione. Da una parte un percorso di valorizzazione dei nostri luoghi, in particolare di quelli della cittadella universitaria, nella parte storica, nel cuore della Pater, è appunto con l'idea di portare dei momenti di riflessione, degli eventi, dei colloqui, dei dialoghi come la rassegna di quest'anno, appunto fuori dalle nostre mura. e da lì è nata l'idea di questa rassegna Zambè che è cominciata nel 2016. Però oggi si annoda un altro che riguarda invece la valorizzazione del nostro patrimonio storico, inteso sia come la nostra storia, i nostri alunni, i personaggi illustri che sono passati in varie epoche nel nostro Ateneo. E qui nel percorso avete avuto all'ingresso la splendida guida che abbiamo fatto insieme a National Geographic che è davvero un unicum, una guida di una città, raccontata attraverso i luoghi dell'università, e un rifacimento completo della parte del nostro portale web che racconta la nostra storia, e la nascita o il rilancio, se volete, dell'associazione degli alunni del nostro Ateneo che è nata qualche mese fa, ha già migliaia di iscritti, anzi invito tutti gli alunni e le alunne che sono tra voi che non si sono ancora iscritti di farlo, c'è per quelli che sono di voi più social abbiamo anche un'app per iscriversi all'associazione, e quindi questi due corsi si ritrovano in questa edizione, e chiudo per non rubare troppo tempo, voglio ringraziare tutti quelli che hanno permesso, anche quest'anno, di realizzare Zambè, ma in particolare un grazie speciale alla mano dietro questi percorsi che vi ho raccontato, al regista, all'ideatore, all'animatore, al vero motore di tutte queste iniziative, e anche un grande amico che è il professor Marco Bazzocchi, che ringrazio davvero di cuore. Mi ha detto che non lo dovevo fare, invece sarò io che cederò la parola a lui. Marco, prego. Buonasera, buonasera a tutti e a tutti. Il Rettore ha già detto l'essenziale, io ci tengo a sottolineare il fatto che il Rettore ha detto, cioè questo incrocio tra la storia dei nostri luoghi, la guida, il portale, queste serate, altre cose che faremo, il premio di fotografia, un ciclo di incontri che il Rettore non sa ancora, che è organizzato per l'autunno, che sarà dedicato all'emotività del ritorno alla normalità, cioè i gesti della normalità, il baciarsi, l'abbracciarsi e l'incontrarsi, ma questo lui ancora non lo sa, io glielo racconto poi più avanti. Tutto questo è dovuto al fatto che noi abbiamo uno straordinario ufficio, un'area che si chiama Unibo Cultura, persone che lavorano in quest'area, ne ricordo alcune, ricordo Mirella Cerato, ricordo naturalmente Eloisa Di Domenico dell'Ufficio Cerini, e ricordo Maria Letizia Vignola, ricordo coloro che hanno lavorato alla guida, cioè il Professor Cavina per la parte storica, il Dottore Enrico Desiderio per la parte artistica, e tutti i collaboratori di tutta questa impresa che, devo dire, è iniziata grazie alla lungimiranza del Rettore Ubertini. A questo punto chiedo a Vasco Brondi di salire sul palco con me, tanto so benissimo che siete qui per lui. Sì, perché di solito la nostra età media è molto più alta, quindi qui c'è qualcosa che ha fatto scattare un abbassamento dell'età. Bene, sì, il posto è magnifico, sono sei anni che chiedo al Rettore di farmi fare le serate qui, che ci sono riuscito dopo cinque anni. Allora, questa sera noi abbiamo del primo di una serie di alumni, cioè di studenti o professori, perché molti sono la stessa cosa, cioè sono studenti diventati professori della nostra Ateneo, e la congiunzione è dopo il fatto che, come tutti voi sapete, in questi mesi si celebra Dams 50, cioè il cinquantenario del Dams, ci sono colleghi e colleghe del Dams, ci sono organizzatori di Dams 50, e ci sembrava abbastanza affidato questa congiunzione, iniziata con la storia di Pier Vittorio Tondelli. Cercherò di raccontarvela in maniera purtroppo non completa, è una storia molto interessante, perché è una storia che dura dieci anni, ma è una storia che è ricca di elementi, e siccome non volevo far fatica a leggere, ho chiesto appunto a Vasco Brondi, che passava di qua, di leggere lui i testi di Tondelli, e allora io vi racconterò la parte, diciamo, che sta in mezzo a questi testi, e lui ve li leggerà. Dunque, la storia non è semplice, devo andare per sommi capi, però ci tengo a puntualizzare alcune cose. Voi sapete probabilmente che, lo dico per i più giovani, che qui negli anni 70 è successa uno di quei fenomeni che sono un po' come i fenomeni che improvvisamente si arrestano nell'atmosfera, cioè un ciclone che si è concentrato in Bologna e ha prodotto qualche cosa, che da allora, diciamo, ha segnato anche in parte la vita di questa testa. Questo qualche cosa, se lo vogliamo chiamare con una sigla, è DAMS. Dietro questa sigla ci sono tante persone diverse, tante famiglie di cultura diversa, però si sono concentrati qui. Allora, io non so spiegare il perché quella concentrazione ha prodotto scrittori, registi, artisti, operatori nell'ambito dello spettacolo, della comunicazione, eccetera, eccetera. Non credo che ci sia una spiegazione. Però, tra tutti coloro che appunto sono usciti da quell'avventura degli anni 70, poi l'hanno proseguita negli anni 80, molti anche dopo, di sicuro ci sono dei nomi importanti. Scusate, ricordo il nome di Giuliano Scabbia, che è morto da poco. Allora, la contestazione giovanile, il cosiddetto 68, non aveva provocato nella cultura italiana quello che la seconda contestazione giovanile nel 77 ha fatto, soprattutto qui a Bologna. Allora, volevo cominciare a questo, perché la storia di Pier Vittorio nasce in un certo senso da qui. Pier Vittorio ha pubblicato il suo primo libro, che è una serie di racconti, però incastrati insieme come fosse una specie di lungo flusso, dove i personaggi si alternano, ma un po' il ritmo è simile, nel 1980. Pier Vittorio è del 1955 ed è morto nel 90 a 36 anni. Nel 1980, guarda caso, Pier Vittorio, che era l'allievo, ha pubblicato contemporaneamente i suoi professori, che aveva pubblicato il nome della Rosa. Quindi, nel 1980, da Bologna, è partito qualche cosa che ha segnato, non la cultura bolognese o quello che c'è qui attorno, ha segnato la cultura italiana. Posso dire, un po' più della cultura italiana, no? Era un professore che aveva fatto degli studi molto, molto sofisticati di una materia che fino allora si conosceva poco, che si chiamava Semiana, e che veniva dal mondo anglosassone e francese, e a un certo punto ha deciso di scrivere un romanzo mettendo a frutto, diciamo così, le sue competenze intellettuali. Tondelli, che era stato allievo di ECO e si era laureato con una tesi su, pensate, sul romanzo epistolare del Settecento, ha deciso invece di fare una cosa diversa. E vorrei cercare di capire insieme che cosa ha fatto. Parto da una cosa, un fenomeno che in un certo senso è tangente. Voi sapete che nel 68 sono successe tante, ci sono state tante forme di ribellione contro l'università, contro la scuola, contro il potere in tutte le sue forme, all'interno delle faglie, eccetera, eccetera. Ed è stato un periodo anche non facile per quella generazione lì. Il 77 invece ha avuto una parte più gioiosa. La prima parte del 77 è stata più gioiosa, più diversa, più creativa. poi qui a Bologna purtroppo si è improvvisamente bloccata con la morte qui di Francesco Lorusso. Però la prima parte è stata appunto una grande festa, una specie di grande festa collettiva che avveniva nelle piazze, che coinvolgeva la gente, i giovani, le donne, i ragazzini, i bambini. Era una festa continua. Pasolini nel 74 scrisse una cosa contro i giovani attestatori del 68. Lui ce l'aveva con loro perché sosteneva che non erano capaci di discutere in maniera seria con i loro nemici. Cioè, voi combattete contro dei nemici che sono i vostri padri, che sono i vostri professori, ma combattete senza avere realmente degli strumenti dialettici. E per spiegare questo lui racconta che un giorno a Praga, nel 69, in un bar, vede entrare i ragazzi che hanno qualche cosa di assolutamente incredibile che nessuno aveva mai visto prima e si siedono al bar, stanno zitti per un po', seduti, senza scambiarsi niente, nessuno ha detto e poi si alzano. Cosa avevano questi ragazzi? Erano due uomini con capelli lunghi. Allora, secondo Pasolini, quello è l'inizio di un fenomeno che è irreversibile, cioè dei ragazzi, uomini, che devono portare nel 68 i capelli corti, perché questo gli ha imposto dalle famiglie, gli ha imposto dalle regole della morale, si manifestano come due specie di divinità improvvisamente con i capelli lunghi, con i capelli lunghi. E Pasolini dice quando li ho visti sono rimasto stupito, sono stato subito su una parte, perché ho capito che era il loro modo di contestare, ma era il loro modo di contestare qua, parlando no, urlando no, muovendosi no, semplicemente mostrando il fatto che quel fatto di creare i capelli era un gesto di ribellione. Lo so, a molti di voi che siete molto giovani può sembrare strana questa cosa, ma in realtà allora era una ribellione assoluta, inconcepibile, che veniva naturalmente dagli Stati Uniti, ma che l'Europa aveva importato subito. Pasolini li ha visti a Praga, dopo un po' li ha visti in Italia, eccetera, eccetera. Ma Pasolini dice una cosa interessante, cioè non si esprimevano, non hanno prodotto niente di linguistico, hanno prodotto qualche cosa che era sul loro corpo, sul loro modo di manifestarsi. Questa è stata la loro, diciamo, la loro forma di ribellione e Pasolini dice li ho ammirati, lui non l'avrebbe mai potuto fare, perché lui era degli anni venti, quindi negli anni quaranta quando aveva vent'anni non aveva mai potuto pensare di farsi allungare i capelli. Però poi Pasolini dice un'altra cosa, dopo un po' io me la sono presa con loro, perché? Perché mi sono conto che è scattato un meccanismo per cui improvvisamente tutti i ragazzi si facevano crescere i capelli. cioè loro contestavano ma gli altri cominciavano a farsi crescere i capelli semplicemente perché iniziava una cosa che fino ad allora non era stata compresa ed era una moda legata al mondo giovanile. Legata al mondo giovanile. Cioè un fenomeno che fino ad allora nessuno ha capito che poi tutti hanno fatto naturalmente negli anni settanta, negli anni ottanta, però allora nessuno l'aveva capita questa cosa qui. Cioè che esisteva un mondo, cioè esisteva proprio un mercato che era fra i 15 e i 25 anni più o meno e che la società capitalistica poteva usare strumenti suoi per agire su quel mercato, cioè per far soldi. Fatti crescere i capelli, vestiti in un certo modo, usa certi oggetti perché mi fai solo un piacere, cioè non mi stai contestando e questo Pasolini l'aveva capito, cioè sei un contestatore ma non mi stai più contestando perché io, società, sistema capitalistico, ti ho già fatto entrare dentro di me e ti sto già utilizzando e quindi senti la pediglia di questo meccanismo. Non sei libero, credi di essere libero, non sei libero. Sentite cosa dice Tondelli più o meno agli anni 80. Prego Vasco. Ragazzi che passeggiano nel West End con cappelli neri a larghe salde, doppiopetti cremisi o addirittura verde smeraldo, calzature da elfi, scaldamuscoli di lana colorata dalla caviglia al polpaccio, scialli, sciarpe, fullara metà tra l'arabo e il gauccio. Ragazze invece assolutamente in minigonne svolazzanti e ampie come paralumi di abajur, maglie nere, giubbetti, corsetti, pizzi e volanti, non già da figlie del corsaro nero come Susa da noi, ma piuttosto da geisce occidentalizzate. Un tocco in più di fascino originale e di riservatezza islamica. Le pettinature di cui vengono chiamate anche new dandy e che le nostre riviste ormai perlontate insieme alla musica e al fascino del loro gruppo leader Adam and the Hans non appaiono nei signorini così eccentriche come nelle ragazze. Mentre quelli si accontentano del capello corto con codino d'obbligo sulla nuca e dell'immancabile orecchino al lobo sinistro che si infilzano anche i bambini di 8-9 anni, le giovani si acconciano nei modi più bizzarri. fonde di mesh cascate di code zampilli di ciuffi e ciuffetti ma dove i lì imperversano in questo look postmoderno che tutto confonde e tutto mischia è sui crani dei risuscitati mod dei punk che ai noi non sono morti dei gay che folleggiano nei loro pub esclusivi e nelle discoteche di Charing Cross senza conoscere quaresime. Ecco allora il dispiegarsi di una miriade di spettinature che crepitano di fervidissima immaginazione e di bagliori di autentica genialità. Ecco la fantasoria di una città che sembra solo sulle teste di una fauna ardente e irrequieta raggiungere il top delle eccentricità giovanili. È questo forse l'unico tono complessivo che attraversa come la corda di un arco teso la varietà del popolo londinese postmoderno facendo vibrare un identico atteggiamento o un'identica mania che risiede nel punk come nel lato o nell'olio la forma esteriore l'involucro l'aspetto cioè come un'unica possibilità di comunicazione delle proprie intensità intime prospettiva decadente ed estrema che viene da con immaginazione e creatività e anche artisticità prendete per esempio uno di quei punk un po' zombie che girano ricoperti di scritte e slogan che dicono che non sono morti e nemmeno la loro musica è morta in alcuni esemplari la sovrapposizione dei messaggi l'interessi dei disegni la decorazione a base di spille spilloni chiodi e borse produce effetti assolutamente straordinari e qui è il caso di dire che questi ragazzi non si abbigliano ma si disegnano non si radono ma si scolpiscono non si vestono ma si dipingono come tessere di un più generale affresco giovanile e metropolitano avete capito 73 Pasolini dice cosa sono sti capelli lunghi cosa vuol dire spingere i capelli lunghi 83 84 passano solo dieci anni tondelli va a londra era un grande viaggiatore conosceva molto bene le capitali europee londra berlino parigi naturalmente la spagna va a londra e cosa cosa dice che londra è una città di testi di capelli portati nei modi più diversi di orecchini di spille di eccetera eccetera cioè tondelli capisce che realmente è nato un nuovo mondo cioè è nato proprio un nuovo mondo cioè è nato quel mondo che a noi oggi forse non fa più impressione perché ci siamo abituati molto a tutto questo perché tutte le nostre città sono diventate uguali cioè tutto questo lo potremmo dire di qualunque città europea oggi magari cambiando un po' i termini naturalmente il punk non c'è più o rimasto in poche isole deserti però insomma è successa questa cosa tondelli l'ha capita allora la prima cosa che vorrei appunto vorrei farvi proprio farvi capire intensamente questa come ha fatto a essere così pronto come ha fatto così pronto a cogliere questa atmosfera perché l'ha colta tra i primi perché l'ha colta tra i primi allora vedete il libro da dove Vasco ha detto è un libro insieme nell'ultimo periodo di vita di Tondelli si chiama Un weekend postmoderno non sapete visto la copertina riuscite a vedere la copertina e riuscite a vedere le tavole che ci sono dentro sapete chi è che ha preparato tutto questo apparato di immagini è un signore un delizioso spagnolo che si chiama Juan Gatti e sapete chi è Juan Gatti è il signore che ha fatto tutte le sigle di Almodovar cioè qualunque film di Almodovar che voi vediate ha la sigla ha la grafica iniziale e finale di Juan Gatti Tondelli è arrivato a quella sintonia lì è arrivato a quella sintonia lì quando dice questo è l'unico modo con cui i ragazzi possono esprimere un mondo dell'intensità sapete cosa sta ripetendo la lettera quello che ha sentito a lezione dal suo professore di letteratura angloamericana che si chiamava Gianni Celati che negli anni settanta aveva fatto qui a Bologna un seminario incredibile da dove è nata la cultura bolognese di questo periodo che era dedicato a Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll che voi sapete che era un signore che non si chiamava Carroll mi si chiamava Doxon era un reverendo e aveva una strana passione per fotografare le bambine piccole con delle foto bellissime per invitarle a casa sua e raccontare loro delle favole anzi molte volte era lui che andava a casa di queste bimbe ben accolto dai genitori e poi ha deciso di scrivere Alice che è un po' la sintesi di tutto questo bene Celati aveva analizzato insieme ai suoi studenti oltre c'erano alcuni che poi abbiamo conosciuto c'era Franco Berardi Palandri dell'autore di Boccalone che è un'altra delle opere di questo momento aveva detto che era venuto il momento di lasciare da parte la cultura ingessata dell'uffiale e di cominciare a guardare le cose attraverso nuove prospettive che non erano però anticulturali assolutamente non era un discorso frichettone abbattiamo abbattiamo la cultura no era il contrario bisognava usare una cultura nuova e ancora più forte se voleva capire come funzionava quella cultura vecchia o che ci sembrava vecchia quindi non è che bisognasse rifiutare i classici o gli studi no bisognava essere così intelligenti e così bravi da arrivare più avanti di loro e Celati si riempiva la testa di letture poi andava a Parigi dove c'era Calvino che era in esilio a Parigi perché non voleva più stare in Italia e con Calvino stavano delle ore a discutere a dire la verità qualche anno dopo stavano delle ore a discutere e Calvino ha scritto una visita e Celati ha scritto quei quattro romanzi bellissimi che sono in parte anche bolognesi e Celati aveva detto bisogna che saper esprimere una cosa nuova che va oltre al linguaggio che è l'intensità del corpo nel momento in cui si libera cioè nel momento in cui il corpo non è più costretto a seguire i vecchi parametri di comportamento di comportamento eccetera ma si deve liberare e siccome il corpo si libera tornando a quella comicità originaria dalla quale in un certo senso tutto è cominciato e che la società borghese ha ridotto secondo parametri molto rigidi cioè bisognava riliberare il corpo e lo si rilibera muovendosi in modo nuovo e non a caso tutta l'idea di performance degli anni 70 è collegata a questo parlare in modo nuovo aprendo il linguaggio qualcosa di nuovo e poi in mezzo a tutto questo c'era anche il discorso naturalmente su quella parte del corpo che per tutta la borghesia è fondamentale e per tutta la cultura occidentale è fondamentale perché la cultura occidentale è nata su questo cioè su come si controlla la sessualità cioè la cultura occidentale è nata su questo sul desiderio di controllare attraverso un pensiero la nostra sessualità i nostri comportamenti sessuali allora Celati diceva proviamo a a a a a a a a i cardini di queste di queste gabbie proviamo a uscire Vittorio ha preso la strada che Celati gli aveva indicato e ha scritto i suoi primi racconti appunto altri libertini proprio cercando di interpretare dalla sua prospettiva cioè da un ragazzo che veniva dalla provincia emiliana che girava in macchina magari la perché non c'era altro da fare ma dei gruppetti di amici che andavano nei pochi bar nelle poche discoteche che però erano aperte solo il sabato o la domenica che si incontravano per fumare magari qualche cosa che aveva a che fare con delle sostanze o scambiavano fra di loro discorsi magari tutti fondati su quelle che noi chiameremo parole sconvenienti eccetera eccetera ma erano dei giochi dei giochi di linguaggio dei giochi di parole e in più Pier Vittorio ci metteva anche la sua tendenza omosessuale che però non era al centro del discorso cioè non era l'omosessualità al centro del discorso al centro del discorso c'era tutto un mondo di sessualità libera dove c'erano donne uomini ragazze ragazzi dove non cercava appunto di non cadere dei stereotipi e di liberare appunto quelle intensità nasce Bertini parole poco convenienti ergo flussi di pensiero liberi viaggi tanti viaggi perché? perché bisognava uscire di casa bisognava andare in giro bisognava venire a Bologna a studiare ma poi da Bologna si prendeva appunto un treno si andava in Germania si andavano a cercare altri gruppi simili in queste grandi capitali si in questo modo ci si liberava da tutta una serie di di stereotipi però qual era il rischio di tutto questo? cioè il rischio di allargare troppo le maglie significava magari cedere troppo a delle mode anche linguistiche comportamentali e Pier Vittorio l'ha capito molto presto questo cioè allargare le maglie sì riuscire a scrivere qualche cosa che andasse contro anche il senso comune del pudore sì processo altri libertini il secondo grande processo in Italia un libro dopo che era stato processato nel 55 Pasolini con ragazzi di vita però Tondelli non si riconosceva in Pasolini almeno in quel momento si riconosceva in Alberto Arbasino che era un intellettuale un po' diverso molto più aperto all'Europa molto meno tragico anzi forse più ironico eccetera eccetera e altri libertini diventa il manifesto generazionale e questo vuol dire che si consuma subito perché voi dovete questa cosa che più usate una moda più la consumate cioè l'idea della moda è basata su questo devi consumarla subito perché dopo poniamo un'altra quindi qualunque cosa che nasce alla moda inevitabilmente muore cioè la moda è proprio la morte è proprio la fine l'aveva capito anche Leopardi allora Pier Vittorio voleva fare una cosa che fosse in questo trend naturalmente però aveva anche capito che non poteva finirci dentro interamente che si doveva trovare delle vie d'uscita delle vie diciamo di salvezza quindi Altri Libertini è ancora bello oggi perché da una parte sentiamo tutto questo che vi ho detto le intensità il corpo la comicità il linguaggio la sessualità l'omosessualità la sessualità nello stesso tempo si sente che lui ha già capito che forse Pasolini aveva ragione cioè che bisognava anche trovare una strada di una strada diversa per non rendere quel libro un prodotto per non farlo diventare un prodotto e allora sentiamo il tono di Altri Libertini il tono di un momento particolare di Altri Libertini che è proprio legato a un gruppo di ragazzi che vengono a Bologna a studiare vanno in affitto da una signora che qui a Bologna si incontrano che cominciano a fare a fare gruppo a vedersi le feste le serate l'alcol eccetera sentiamo appunto il tono di Altri Libertini prego notte raminga e fuggitiva lanciata veloce lungo le strade d'Emilia smonare quel che ho dentro notte solitaria e vagabonda pensierare in auto verso la prateria lasciare e riempiano la testa che così poi si riposa come stare sulle piazze aspetta gente che passeggia e fa salotto e guarda in aria tante fantasie una sopra e sotto all'altra però non si affaticano nulla correre allora la macchina va dove vuoi svolta su e giù dalla via Emilia incontro alle colline e alle montagne oppure verso i fiumi le bonifiche e i canneti poi tra Reggio e Parma lasciare andare il tiramento di testa e provare a indovinare il numero dei bar compresi quelli all'interno delle discoteche e dei dancing all'interno ora che è agosto e hanno alzato persino le verande per godersi meglio le zanzare e il puzzo della campagna grassa e concimata lungo la via Emilia ne incontro le indicazioni luminose e intermittenti i parcheggi ampi e infine le strutture di cemento e neon violacei e spot arancioni e grandi fari all'oi odio che si alzano dritti e avanti e indietro così che i coni di luce si intrecciano alti nel cielo e pare allora di stare a Broadway o nel Sunset Boulevard in una notte di quelle buone con dive magnati produttori e grandi ma sono 21 ma prima di entrare in Parma sono già a 33 la scommessa va puttane pazienza in fondo non importa granché stamattina mi sveglia alle 7 e un quarto il Gigi e dice che ha il colpo buono ha trovato un parente che gli anticipa milioni di lire al 7% a partire da tre mesi si tratta di fare un viaggio in India a Bombay comprare quel che c'è da comprare e tornarsene in Italia in non più di 10 15 giorni i 3 milioni diventeranno 7 8 vendendo naturalmente a doppio del prezzo di costo quel che si è arraffato ma io ho detto di no e finalmente non è andata mi c'è voluta mezza bottiglia per riprendere sonno il che avvenuto saranno state ormai le 9 ricordo di aver controllato in cucina l'ora quando mi sono alzato di nuovo per rispondere al telefono un paio di minuti mica di più che avevo ripreso a dormire per tutta la giornata Gigi mi ha tartassato con la faccenda di Bombay è tornato all'ora di pranzo e è tornata a menarla la nuova telefonata è stata la goccia fatale ho bestemmiato in interrottamento che non ha riagganciato ed è salito appunto verso la 1 la novità è che ha trovato due biglietti per un volo charter in pantenza da Amsterdam col prezzo praticamente dimezzato rispetto a quello di Alitalia allora è stato tutto un conteggiare il superiore di guadagno a confronto con i cambi di valuta i passaggi e i passaggi attraverso il fiorino olandese la storia è iniziata a passarmi ma è durata ben poco il tempo che Gigi ha impiegato per perdarsi di essere a secco da oltre 48 ore è sbiancato si è fatto livido ho avuto paura sono dovuto correre al CIM dove è in cura prelevare l'assistente di turno e fargli il buco dei 3 milioni non si è più parlato Gigi ha sonnecchiato e giocherellato con una collanina di vetro ha fumato le mie sigarette l'ho lasciato che pizzicava la chitarra non so non so se l'avete sentito non so se l'avete sentito il brano che Vasco ha letto comincia con questo bisogno di andare in giro in automobile Reggio Parma pratica i luoghi sono questi e sentite che dice più volte che ha bisogno di far andare la testa da un'altra parte cioè l'automobile deve condurre la testa da un'altra parte però poi avete sentito che c'è la storia dell'India che per Tondelli sarà importante perché a un certo punto lui si avvicinerà al pensiero negli ultimi anni della sua vita si avvicina a una forma di ritualismo orientale poi c'è naturalmente il ritorno a casa l'amico Tossicomane e avete sentito la malinconia delle ultime righe no? inizia diciamo con un aspetto di un entusiasmo fisico e anche psichico andare in macchina contare i bar eccetera poi però si spegne si spegne proprio con quella malinconia di Gigi che pizzica che pizzica la chitarra no? cioè come se ci fosse proprio un arco di tensione emotiva che si scarica bene Altri Libertini è costruito così è costruito secondo questa logica ed è questo che Tondelli ha capito cioè non poteva puntare solo sulla parte euforica diciamo eversiva estroversa della festa cioè non poteva puntare su quello Celati aveva puntato molto su quello ma lo aveva fatto con una scrittura incredibilmente complicata Tondelli doveva parlare dentro la sua scrittura quella che si chiamava non in senso dispregiativo ma in senso letterario una contro cultura cioè una cultura che era nasceva dal basso il modello era naturalmente non so i ritmi che i neri d'Africa avevano portato a Londra e che da Londra erano arrivati in Europa un certo tipo di musica un certo tipo di sound che si sente in Alti Libertini però non poteva fermarsi lì perché c'era bisogno in qualche modo di far sentire anche l'altra faccia l'altra faccia di questa vitalità che era una vitalità che non si poteva giocare solo diciamo tutta proiettata verso fuori verso quello che sarà poi uno dei grandi miti di questa generazione portare tutto fuori uscire dalle mura di casa uscire dalle mura della scuola dalle mura dell'università la piazza appunto come collettività eccetera il corpo si deve liberare come vi dicevo prima però Tondelli capisce che quello non basta e allora cominciamo a sentire in questi racconti sempre uno smorzarsi dei toni c'è un momento in cui appunto una specie di malinconia sottile entra dentro la pagina e quindi si era partiti in quella specie di grande movimento vitale poi si insinua a qualcosa hai anche il secondo brano di Alti Libertini abbiamo anche facciamo anche il secondo intanto vedete appunto un secondo brano di Alti Libertini come ha bisogno di raccontare anche l'esigenza di una domesticità che fuori probabilmente non si trova più prego quando torniamo in Italia ci iscriviamo Gigi e io all'università a Bologna affittiamo una casa con uso cucina da una signora anziana che occupa un'altra camera sul lato opposto dell'appartamento fuori Porta Saragozza lo stabile è dello IACP e la nonna non potrebbe subaffittare visto che la casa l'ha gratis così siamo costretti a contrabbandarci per nipotini suoi con tutti gli inquilini e con l'ispettore del comune sullo stesso pianerottolo sta un vecchietto anche lui ha studenti il greco Grigoris che fa ingegneria ed è un fuoriuscito che a quei tempi là c'erano ancora i colonnelli con Grigoris ci si trova qualche sera che nevica a tirare una briscola i vecchietti contro noi due ma se la vincono sempre loro perché il greco è proprio negato a giocare alle carte e poi c'è il fatto che non vuole imparare quei segni di bocca e strizze di naso e slumate d'occhi per indicare re, cavallo, regina e fante e non si comunica senza i segni cosa che sanno invece benissimo gli avversari che guardarli giocare sembra di stare al cabaret così perdiamo una partita sull'altra ma sono sconfitte queste che non lasciano traccia nemmeno nel portafoglio perché i vecchietti giocano 50 lire ogni tre punti e se va proprio male al massimo lasciamo sul tavolo l'equivalente del biglietto dell'autobus quando poi i colonnelli vacillano e cascano nella polvere altri patiotti vengono da Grigoris e per molte notti c'è festa grande con tutti gli abitanti dello stabile si ride e si balla con tutti i fuoriusciti e alcuni dello IACP noi però resistiamo novembre e dicembre e un po' di gennaio poi subaffittiamo i pesaresi per 50 carte come tangente l'affitto è di 50.000 mensili più una quota per il riscaldamento e il gas la nonna è contenta dei pesaresi perché sono ordinati e tengono i capelli e non fanno chiasso tutti i santi giorni come invece facevamo noi che allora imparavamo a suonare la chitarra e il flauto dolce e si riusciva bene male a fare tutto vivacile degli intillimani si trova poi casa una bella casa dietro piazza maggiore dal gennaio la lasciano tre ragazze che sono passate a psicologia a Pado non resistendo all'ambiente di lettere non hanno voluto tangenti Gigi ridacchiava dice sono proprio sceme il nuovo appartamento è di tre stanze più un salottino e i servizi così cerchiamo un terzo per dividere le spese visto che la casa sopporterebbe benissimo anche quattro persone ma tre sono sufficienti andare avanti e abbassare di 20.000 l'affitto insomma 35 è a testa 1980 2000 2010 vedete che questa scena è una scena che si rivede sempre cioè questa scena di un interno studentesco bolognese non ha età e voi direte ma prima non c'era però non c'era nessuno che era riuscito a coglierla in questo modo e notate che l'ha accolta non dalla proposta dei giovani però ha dato molta attenzione appunto alla vecchietta parola di casa ai vecchietti che giocano a carte cioè è riuscito a tenere insieme tutto ecco tenere insieme tutto a un certo punto Tondelli ha questa idea lui deve essere colui che riesce a rappresentare tutto il titolo di questa sera io li filmerò filmerò i di loro amori notate quel di loro che è colto che non è popolare che non è gergo i di loro amori cioè devo fare un film di tutta questa realtà cioè tutto quello che ho visto quello che ho sentito in questi anni di università dentro e la mia scrittura in qualche modo lo deve rendere ma lo deve rendere non solo per i miei coetanei non solo per la mia generazione deve diventare qualche cosa che passa al di là di questa di questa epoca notate Umberto Eco nome della rosa il medioevo i prati la biblioteca il convento il labirinto lotta di potere fra i francescani i domenicani e Guglielmo da Baskerville e tu cioè pensate nello stesso anno com'è possibile che ci siano due strade così diverse e così vitali ma sono vitali perché quelle due strade non si annullano ma quelle due strade in un certo modo parlano tra di loro perché erano due modi di fare cultura di due generazioni diverse di due mondi diversi ma erano nati tutti e due lì in quello stesso posto in quelle aule di strada maggiore era nato lì tutto questo Eco Celati Scabbia Ginzburg Piero Camporesi e gli allievi gli studenti Tondelli Palandri Franco Berardi eccetera eccetera a un certo punto in altri libertini in uno dei primi racconti c'è un momento sono i ragazzi che parlano parlano di loro al femminile secondo un'abitudine appunto del mondo omosessuale cioè si danno dei soprannomi da donna e a un certo punto ne fanno di ogni vanno in giro di notte in discoteca cercano di adescare dei ragazzi più giovani se li portano fuori in macchina fanno cose di sesso dove capita poi alla fine di tutto questo che uno dice ma accidenti ma in quei giorni ne avete combinati di ogni colore sì alla fine di tutto questo c'è uno di loro che dice no abbiamo sbagliato tutto cosa abbiamo cercato in questa estate abbiamo ricercato una nostra autenticità ma siamo sicuri che non sia stata tutta un'illusione siamo sicuri che siamo stati veramente liberi nel fare questo cioè siamo sicuri che il nostro non è altro che un es scarico circonciso e fiacco cioè una spesa di liberazione di quello che abbiamo dentro che mai è fiacco carico allora a questo punto a Tondelli si aprono molte strade fra l'altro anche il successo naturalmente scrive altre cose una specie di romanzo dedicato al servizio militare alla sua esperienza nel servizio militare tenta un romanzo già pronto per essere portato al cinema chiama Rimini che è una storia dove dentro c'è un intrigo di soldi di potere poliziesco politico eccetera eccetera viene fatto anche un film che però non ha un grande successo io l'ho incontrato in quel momento lì me l'hanno presentato era appena uscito Rimini e lui mi ha detto ah fai il dottorato io ho detto si faccio il dottorato hai letto Rimini ho detto sì e ha detto e come ti è sembrato io ho abbassato gli occhi ho detto non abbiamo più parlato dopo non abbiamo più parlato ci siamo incontrati altre volte ma non abbiamo più parlato Ubertini lo sa non riesco a star zitto Rimini non mi è piaciuto non mi è piaciuto perché lì ha tentato di fare una cosa che non era poi succede che Tondelli si ammala voi sapete allora non c'erano i medicinali si ammala e scrive il suo capolavoro il suo capolavoro è il capolavoro di un uomo che ha capito in quel momento quale sarebbe stata in quel momento la strada giusta da percorrere quel capolavoro si chiama Camere separate ed è una specie di tentativo di elaborare un lutto amoroso è la storia di un ragazzo il cui fidanzato è morto per ragioni alla droga e tutto il romanzo è il racconto di come loro si sono conosciuti si sono amati hanno vissuto credo quattro anni circa insieme uno dei due è scomparso e chi è sopravvissuto non vive più cioè il sopravvissuto che si chiama Leo che in questo romanzo parla in prima persona dice che lui si sente aggrappato al suo corpo il corpo di un altro che è morto e questo potrebbe essere sentimentale potrebbe essere commovente ma c'è un'altra cosa in questo romanzo che Tondelli dice recupera la sua origine italiana era molto legato più andava avanti più era legato alla sua terra era legato all'Emilia era legato ai narratori dell'Emilia che nessuno conosceva e che lui andava a cercare con molta attenzione rivalutandoli dando a questi narratori uno di questi è Darzo per esempio che era rimasto entusiasta era molto colto Pier Vittorio ma molto leggeva in inglese leggeva in tedesco leggeva in francese leggeva in spagnolo leggeva tutto mi aveva dato dei consigli fenomenali di lettura prima che diventassero di moda una volta mi aveva detto ma l'hai letta Ingebro io ho detto no leggila perché è appena uscita la traduzione da Adelphi e aveva precorso i tempi aveva capito che doveva dare una solidità alle sue intuizioni degli anni Ottanti che questa solidità nel Camere Separate è dell'89 lui muore nel 91 questa solidità doveva essere vitale e naturale dello stesso tempo e Camere Separate è una specie di lungo lamento sulla vita che sta finendo ma su un'altra cosa che è forse la cosa più interessante che Pier Vittorio abbia abbia fatto cioè che non puoi pensare che la vita sia piena non puoi pensare che la vita sia pienezza non puoi più pensare che il corpo sia il centro di tutto il tuo sistema vitale non puoi più essere il giovane ribelle che scappa di casa e viene qua a Bologno e va in giro per l'Europa non puoi più essere così proiettato verso il fuoco erano passati solo nove anni no? altri libertini Pier Vittorio capisce che che diciamo pieno inevitabilmente bisogna fare i conti con il vuoto bisogna fare i conti con la parte di sé che porta verso uno spazio molto più rischioso molto più pericoloso che è uno spazio dove probabilmente si incontrano i fantasmi che non si sono voluti incontrare per tutta la vita e a un certo punto Leo parlando di Thomas che è il ragazzo che è morto dice che Thomas ha lasciato un seme di vita che lui porta dentro nel suo corpo mortale cioè Thomas è morto ma gli ha lasciato un seme di vita e quel seme di vita lui sa che lo deve far crescere lo deve far appunto crescere nel suo corpo mortale notate che il romanzo si chiama Camere separate che secondo la storia di Leo di Thomas c'è una specie di inevitabile fallimento in un rapporto di coppia per cui si finisce per stare in Camere separate ma le Camere separate in un certo senso sono anche il senso di uno spazio che ci portiamo dentro noi siamo fatti di Camere separate cioè è inevitabile che dentro a quell'entusiasmo e a quella pienezza appunto si senta che c'è una stanza vuota che è rimasta vuota che non potrà più essere riempita Vasco leggici quelle pagine che si rimane separate sentirete che il tono è completamente cambiato ripeto sono passati pochi anni Pier Vittorio sa di essere malato non sa probabilmente se ce la farà vuole lasciare un testamento però e questo testamento è probabilmente un messaggio per tutti un messaggio che lui lascia a quella collettività di giovani che ha amato la scena che Vasco adesso vi legge è una delle ultime scene del romanzo quando Leo rievoca un viaggio una delle tante estate fatte in Grecia lui sta tornando sul traghetto da Patrasso giovane e vede attorno a sé un mondo di ragazzi e di ragazze di tutta Europa più giovani di lui a volte anche molto più giovani di lui e capisce appunto che lui ormai non è più in quel mondo lì ma che può fare qualcosa per quel mondo lì è su un traghetto che lo sta faticosamente riportando da Patrasso in Italia è notte una notte fredda di fine agosto in mare lui è solo senza attrezzatura per affrontare l'alleggio di due giorni in coperta ha perso l'aereo ad Atene e non ha trovato nessun posto sui voli affollati per l'Italia ha alloggiato per due notti in un albergo a ridosso dell'aeroporto che lasciava per presentarsi ogni tre ore al banco dello stand-by notte e giorno poi stremato con gli ultimi soldi è andato alla stazione degli autos si è infilato in un pullman e ha raggiunto Patrasso qui ha aspettato fino a notte che il traghetto salpasse senza bere senza mangiare ha connesso un passaggio in coperta l'unico che gli consentisse di cercarsi e quando la nave è salpata si è trovato attorniato sul ponte da centinaia di giovani che disponevano i sacchi a pelo e addossavano ai parodi gli zaini preparando un giaciglio per la notte lui era l'unico seduto sulla panca di ferro solitario e assorto come un passeggero di altri tempi non aveva coperte né zaino niente da mangiare aveva lasciato Chios sconvinto che tre ore dopo sarebbe stato a Roma in realtà erano già tre giorni che stava viaggiando con la prospettiva di non essere a casa prima di altri tre accanto ai suoi piedi si erano distese alcune ragazze diandinave e oltre un gruppo di francesi poi ragazzi tedeschi spagnoli molti giovani americani svizzeri brasiliani olandesi canadesi lui riconosceva le nazionalità non solo dai coppi e dalle fattezze fisiche dal colore delle capigliature e dalla lingua anche se non avrebbe saputo distinguere con sicurezza il fiango dallo chieso il catarano dallo spagnolo ma soprattutto dalle bandiere cucite sugli zaini erano i veri e i veri erbero differente della stessa idea di gioventù poi improvvisamente come se dagli altoparlanti avessero dato un ordine preciso e perentorio tutti presero a estrarre dagli zaini tocci fagotti involucri e cominciarono a aprirli distendendoli sui sacchi a peli sui sacchi a pelo quello che non vide uscire da quei sacchetti lui guardava meravigliato e incredulo l'esposizione di tutta quella abbondanza le ragazze spalmare il burro sulle fette di pane e passarle ai ragazzi con un ritmo veloce quasi fossero quei toast dei piattelli di una gara di tiro e con quale accanimento mangiavano ingurgitavano le cosce di pollo che sparivano le bocche come in un effetto da cartone animato e lui continuava a farse sulla panca erto su quella folla distesa e sazia pateticamente stretto nel suo blazer blu con i jeans bianchi che non lo riparavano dal freddo le scarpe da barca senza nemmeno un paio di calzettoni di lana e cominciò a odiare tutta quella folla così organizzata e pratica e regolare nei ritmi dei pasti e assolutamente nessuna birra in giro né vino forse solamente l'ombra di una birra metaxa là in fondo negli spagnoli e quando il pranzo finì i cartocci le porti le porti le porti le porti gli avanzi i sacchetti sparirono nel volgere di qualcuno e decisamente tutto cessò di nuovo e lui accorse che la maggior parte dei ragazzi si era addormentata vide qualche viso sporgere dalle coperte con le cuffiette del walkman sulle orecchie qualcun altro che parlottava due che si baciavano con tenerezza ma il silenzio era immenso e il rollio del traghetto anche sembrare un modo arcaico proprio perché tecnologico di cullare i sogni dei ragazzi allora lui provò per un istante la intima e commossa gioia di poter vegliare sul sonno di quelle centinaia di giovani e che forse se aveva solo la coincidenza a Tene se si trovava in viaggio da tanti giorni si era imbarcato proprio su quella nave e non su di un'altra era perché doveva raggiungere quella panca di ferro verniciata di bianco e poter guardare lo spettacolo di una gioventù soddisfatta e tranquilla come mai e poi mai era stata tua quei giovani lui li conosceva bene e se non li aveva mai incontrati prima né con ogni probabilità li avrebbe più rivisti fosse pure vissuto altri mille anni né loro mai si sarebbero ricordati di quel giovane uomo seduto come a teatro con gli occhiali di tartaruga una sigla roletta con le dita perennemente accesa fra le labbra riparato da un telo da bagno turistico per sistemarsi insoddisfatto sulle spalle eppure proprio per questo lui ebbe alla luce di quelle stelle di quella luna mediterranea e gelida la consapevolezza che il suo destino era proprio questo di vegliare e di raccontare e guardando la scia di spuma bianchissima che la nave lasciava a poppa e che si allargava come un ventaglio luccicante e ribollente sul nero della notte lui si sentì in un certo modo rassicurato e vide come un unico l'immagine della nave e della traccia dei destini di quei giovani bellissimi uomini e anche la sua vita non più separata ma ben piazzata sul ponte di qualcosa in movimento un vascello colmo di benevoli destini arcorché fantasmi ora sul pullman che solca silenzioso la terra del Quebec vede i due ragazzi come incontaminate presenze che provengono direttamente dal cuore di quegli anni in cui lui è stato giovane la persistenza fisica di tipi e personaggi attorno ai quali è nata la sua scrittura e nei quali si è incarnato il suo desiderio e si sente protetto o meglio sente che il suo viaggio avrà un destino avete capito cosa è successo avete capito cosa è successo in quei nove anni cioè lui adesso è solo e quei ragazzi non sono più i suoi coetanei sono un altro mondo lui addirittura dice che li detesta all'inizio perché sono così ben organizzati hanno tutti i loro sacchettini le loro cose non bevono alcol hanno preparato una cena poi l'hanno messo tutto a posto è tutto il contrario di quello che era la situazione e li detesta per questo ordine per questa misura per questa specie di ritmo però poi cosa succede succede che capisce che lui è appunto come nel vecchio nel vecchio poemetto di Coleridge è come quel nocchiero quel capitano che guida le cose di fantasmi ma lui è in realtà il fantasma e lui ormai non è più in contatto con la vita e allora può raccontare narratore di quel mondo cioè adesso che ha acquisito quel distacco adesso che guarda le cose a distanza lui può raccontare quel mondo e qual è e cos'è la storia di quel mondo qual è adesso l'estate di quel mondo è il messaggio che lui vuole lasciare e quel messaggio è qui dentro ed è un messaggio dove vita e morte intensità appunto della vitalità dell'amore dell'eros e il suo contrario sono insieme sono la stessa cosa non sono divisibili Thomas morto e Leo vivo sono la stessa cosa non possono essere separati le camere sono separate le camere sono separate ma comunicano il libro comunica e c'è un momento in cui Leo che chiaramente è un scrittore e pensa di poter dare uno scrittore ancora più importante dice che lui vorrebbe appunto cambiare il modo di scrivere vorrebbe scrivere libri per pochissimi amici 10, 15, 20 amici e in effetti è una cosa che poi Tondelli fece libri destinati agli amici di cui si fida e poi in metropolitana gli capita di vedere un ragazzo naturalmente uno sconosciuto che legge un suo libro e lui deve scendere rosso di vergogna cioè che quell'attività di diventare scrittore ha prodotto in lui un nuovo fenomeno il fenomeno contrario all'orgoglio o alla come dire alla monumentalizzazione di sé e questo senso di vergogna profonda che Pier Vittorio aveva che si portava dietro che non aveva mai elaborato fino in fondo non era una vergogna per la sua diversità sessuale o per altri tipi di diversità era la vergogna di di dover dire qualche cosa non poter fare a meno di dire qualche cosa potersi trattenere dal raccontare tutto questo era la vergogna nel senso che lo portava a scrivere e a un certo punto lo dice molto non ho bisogno di vivere ho solo bisogno di scrivere quello che ho imparato in questi anni adesso Vasco chiuderà questa serata e ci leggerà un pezzo che è un passo indietro ma non è un passo indietro cioè è l'ultimo racconto di altri libertini che si chiama Autobahn che è tutto un racconto di una corsa folle verso la vitalità di una corsa folle verso una cosa imprendibile e colui che parla in questa corsa folle appunto è il Pier Vittorio Tondelli degli anni 80 non più quello destinato con l'89 a fare il suo ultimo romanzo poi a mettere insieme il weekend postmoderno e poi e poi a morire così giovane un suo amico un suo amico che si chiama Enrico Palandri che è uno scrittore che ancora oggi appunto continua a scrivere anche se ha cambiato naturalmente oggetto di attenzione tipo di scrittura e che fra qualche giorno parteciperà sempre all'interno delle manifestazioni per Dams 50 qualche anno fa ha scritto un librettino dedicato a Tondelli Pier poi sottotilito è Tondelli e la generazione cioè la generazione la loro generazione e in questo libro Palandri che poi ha fatto il professore al liceo e all'università dice qualcosa che Pier si sono incontrati negli anni scusate negli anni 70 non si conoscevano ancora e si sono incontrati però perché avevano scritto ognuno un libro e quindi con i loro libri cominciava a muoversi qualche cosa che loro si stavano portando dietro di cui si portavano dietro la faccia e cominciavano a sentire di avere un ruolo cioè cominciavano a sentire in modo diverso che ognuno di loro due stava diventando un autore stava diventando uno scrittore e Palandri dice ma un ruolo non è qualcosa che ti fa veramente bene anzi è qualcosa che mette in crisi la tua identità e poi aggiunge anzi ti illude di essere qualcosa ti illude di essere qualcosa e poi aggiunge questo nessuno scrittore dovrebbe mai identificare a Iace che si sveglia coperto di sangue perché ha sterminato un gregge o Antigone che lotta per riportare la città il corpo di Polinice o Edipo che cerca negli altri la propria colpa non potremmo mai dimenticare che il destino è sempre e comunque tragico perché nessuno può essere riassunto dagli altri negli altri e poi c'è questa frase bellissima ci si sveglia nel nome come un sogno piuttosto un incubo in cui le regole del mondo spiegano più nulla di quello che si è il problema è che Palandri lo dice quando ormai è un uomo maturo è un uomo diventato grande ci si sveglia nel proprio nome e si capisce che è stato un sogno e che le regole del mondo non spiegano più niente di quello che sei Pier Vittorio non ha fatto tempo a svegliarsi è morto a 36 anni non ha potuto capire questa cosa però l'aveva di sicuro sentita in camere separate ce l'ha fatto sentire Correggio sta a 5 chilometri dall'inizio dell'autobrennero di Carpi Modena è l'autoban più meravigliosa che c'è perché mettili su e i soldi in una giornata intera e anche meno esci sul mare del nord diciamo Amsterdam tutto senza fare una sola curva entri a Carpi ed esci lassù io ci sono affezionato a questo rullo di asfalto perché quando vedo le luci del casello d'ingresso luci proprio da gran teatro colorate portate sul proscenio di ferri luccicanti con tutte le ordinate e pulite che ti fanno sentir bene anche solo a spiarle dalla provinciale insomma quando le guardo mi succede una gran bella cosa cioè non mi sento prigioniero di casa mia italiana che odio si odio alla follia tanto che quando avrò tempo e soldi me ne andrò in America da tutta la parte si intende però è sempre andare via ma ci sono pomeriggi o albe e anche tramonti anche questo dovete imparare che succede il gran miracolo cioè arriva su quel rullo l'odore del mare del nord pazza le strade e la campagna e quando arriva senti proprio dentro la salsedine delle burrasche e dell'oceano e persino il rauco gridolino dei gabbiani e lo sferragliare dei docks e dei cantieri e anche il puzzo sottile delle alghe che la marea ha dato sugli scogli insomma ti ho affilato lungo questo corridoio l'odore del gran mare l'odore dei viaggi l'odore che sento come un prodigio e che sto inseguendo sulla mia ronzinante e cinquecento con sugli scoramenti e dentro tanto vino e in bocca tanta voglia di gridare cercatevi il vostro odore e poi ci saranno fortune e buoni fulmini sulla strada non ha importanza alcuna se sarà di sabbia del deserto e montagne rocciose fosse anche quello dell'incenso giù nell'India o quello un po' più forte tibetano o nepalese no sarà pure l'odore dell'arcobaleno e del pentolino pieno d'ori degli acquidoni i bimbi miei degli uccelletti dei boschi verdi come in mezzo gli usciglietti gai e cinguettanti delle giungle sarà l'odore delle palline dei canneti dei patti sui ghiacciai saranno gli odori delle bettore di Marrakesh o delle fumerie di Istanbul ah buoni davvero odori in verità saranno pur sempre i vostri odori allora via la faccia di tutti avanti col naso in aria fiutate il vento strapazzate le nubi all'orizzonte forza è ora di partire forza tutti insieme incontro all'avventura grazie mille grazie mille voglio ringraziarvi dell'attenzione e anche di di questo splendido invito per me insomma l'incontro con Delli volevo dire due parole è stato fondamentale perché l'ho incontrato da ragazzino e l'ho subito posto ristoro ho avuto uno shock perché era uguale al bar della stazione di Ferrara ed erano esattamente vent'anni dopo tra l'altro e c'erano le stesse persone dentro ed è stata la prima volta che ho visto rappresentati i posti che credevo non sarebbero mai andati bene per scrivere delle canzoni o per far succedere delle canzoni lo stesso shock che mi ha dato Ghirri quando ha reso epici dei posti che mi sembravano assolutamente anonimi e invece è riuscito a rappresentarli così intimamente che sono diventati praticamente eterni mi ha colpito molto questa cosa che lui era incredibilmente contemporaneo a se stesso ma non dimenticava che nell'arte probabilmente ci vuole quella scintilla di eternità e in questo in questo contesto credo che sia importante dirlo perché non è mai entrato nel mondo istituzionale tondelli è un'eccezione questa è un'anomalia forse l'università di Bologna è un'anomalia non è nei programmi della scuola superiore così però mi ha colpito tantissimo leggere su Panta la rivista che lui ha collaborato a creare dopo che è morto è stato dedicato un numero a lui e c'è uno scritto di Filippo Betto un amico che tra le altre cose racconta di quando gli ultimi giorni di vita di tondelli andava a trovarlo in ospedale e quando gli si chiedeva come stava rispondeva infinitamente triste e si criticava dicendo di non aver lavorato abbastanza perché diceva che forse sarebbe passato alla storia come uno scrittore emiliano minore e invece senza di lui sarebbero sparite delle storie delle persone che adesso sono indimenticabili dei personaggi che adesso sono indimenticabili non ci sarebbero stati e anche questi posti non erano mai più gli stessi dopo il passaggio della sua scrittura del suo sguardo grazie 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 Filippo ha fatto l'esame di letteratura italiana con me grazie a tutti buona sera tornate tornate a sentire le storie dei nostri alumni grazie 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 grazie